Allora, finita la guerra di Marineford, si continua con il nuovo mondo Quindi ora dobbiamo giocare la riunione dei pirati di capello di paio Ovviamente sono trascorsi i due anni E si parte, vediamo il video Ciao, Hankook Andiamo nel nuovo mondo Che vedremo ben poco perché ci farà saltare tanti bei capitoli interessanti Ma vabbè, ci vogliamo vedere Ma direi che voglio vedere Sanji Grazie Ruffi è stato chiesto di messaggio di Ruffi Ruffi è stato chiesto di professione di Ruffi E' stato chiesto di crescita di Ruffi E' stato chiesto di crescita di Ruffi Ok, qui devono raggiungere tutti i lasanni E non deve essere nessuno sconfitto Perfetto Evviva Savao Di Allora, vediamo il set di mosse Non riesco a farne più Allora, dobbiamo incontrarci con il gruppo Questa guarda quella di prima Non posso farlo Skywalk con Sanji No, non lo fa Va a far culo Per... di qua Non sono mai maletto perché mi state inseguendo Appare capo a foresta di fuorilegge Che non ci interessa Noi non lo cagliamo neanche di striscio Tu sei quello che ci interessi Dove caspi è andato? Ok, sconfitto Abbiamo trovato Azo per primo Abbiamo trovato anche Robin E crepate tutti Ok, dobbiamo andare lì A conquistare la zona con frem Acquistiamo prima qua se scende Eccolo qui lo stronzo Ok Andiamo da Frankie Per di qua Se Azo per Robin non mi lanciano i cadaveri è meglio Ecco c'è pure il pacifista Ciao Frankie Ciao 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 Perfetto Perfettissimo Ohia, sparite Stanno arrivando altri Robo-chan Voi con i cannoni sparite Vediamo la mossa finale di Sanji Vabbè non abbiamo preso nessuno Ma fa niente Perfetto Perfetto Chi c'è lì? Ma c'è il capo Però non mi fa le combo Sanji Ok Ok L'abbiamo distrutto Conquista Zandor Bunny Cominciamo al Frankie L'abbiamo già fatto Ok Infatti E dobbiamo andare a sconfiggere i finti Rufi Perli qua Arrivo Ora vediamo qua Se riusciamo a prenderli Col pedigree L'abbiamo presi? Ancora è vivo Uno Ok Un altro Due Boom Battuti Perfetto Ce ne sono altri? Perdi qua Sono altri finti pirati di cappello di paia Perdi qua Andate a fanculo tutti voi Questa volta vi becco Beccate tutti e due Ok battuto Sì 1500 Abbiamo fatto i secchi Eh Si Abbiamo fatto i secchi So Ok Vabbiamo O andiamo per di qua no ma porca miseria brook io lo sapevo ai due anni di allenamento non ti sono serviti a niente brook che stai in difficoltà brava Nami figazzoro pure tu oddio i pacifista pedigree vediamo se mi fa male questo niente sì ma io devo andare aiutare prima brook scusatemi ok un figlio di un cane crepa oh vabbè io qua la situazione è sotto controllo quindi me ne andrei dai pacifista che quelli sono un poco più difficili ehi la pacifist ehi la pacifist vediamo se li becco tutte e due uno l'ho beccato bene infatti uno è andato rimane l'altro parisci pacifista ma dov'è il capo allora ma dobbiamo breccare ancora i minchioni i finti cappello di paia mi consentite di farla finita la svelta perfetto ma veramente eh Zoro vieni qui che sennò ti perdi chi è a passo mo altri capitani della marina dai lezione capitano della marina e compagnia sì Zoro se ti muovi però dio bono nooo si va bene sta strada corri corri Sanji perdi qua ma sono tutti fermi lì cosa stanno facendo salve sono venito alla festa anch'io eh e un'altra è andata e un'altra è andata gli altri dovrebbero essere qua sopra per di qui c'era un altro che è stato pietrificato da Hancock brava Hancock oh la ok successo no e quanti ne è qua per di qua su quindi abbiamo tre possibili zone dove si trova Ruffy dobbiamo trovarle provarne una per uno troviamo Ruffy guardi qua sei qui Ruffy ma qua non c'è ah l'ho trovato ma che culo una volta prima volta che provo lo becco è un'altra è andata quanti siete 2500k qua ah appaiono sentumara pacifista andiamo subito da sentumara pacifista non perdiamo tempo ecco pacifista ecco sentumaru vieni qua sentumaru beccatelo no ma non l'ho beccato per niente e sentumaru è andato a quel paese vuole rimanere pacifista da fare no no bastava solo sconfiggere lui meglio ancora o 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Manca un ciao, come stai? Come è passato questi due anni? Niente, andiamo, basta. Nel nuovo verso il nuovo mondo, ragazzi, verso il nuovo mondo. Grazie Sanji, anche se il suo moveset non è che mi faccia gridare al miracolo. Ok, prossimo episodio qual è? Dress rosa, perfetto. Saltiamo... Mamma mia, però. Saltiamo... L'isola dei uomini pesce, Punk Hazard, saltiamo tutto, va bene. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Vi ricordo, iscrivetevi, mi raccomando. Al prossimo episodio di One Piece Spirit Warrior Squad. Ciao.